Prosegue la campagna elettorale, gli incontri si fanno più intensi, serrati, con noi il consigliere regionale Francesco Taglieri del Movimento 5 Stelle, ricordiamo che è candidato alle elezioni del 10 marzo per il rinnovo del Consiglio regionale. Ecco, sono temi importanti ancora da affrontare, in questi giorni ne ha affrontati e ne sta affrontando tanti. Che cosa possiamo dire ancora in merito per esempio all'ambiente, alla sanità, che sono comunque argomenti particolarmente sentiti? Non solo sono argomenti particolarmente sentiti, anche perché tutti i giorni, quotidianamente, leggendo i giornali o guardando la televisione, parliamo di un pianeta ormai che non gode di buona salute. E il nostro intervento, le misure che devono essere messe in campo, devono essere drastiche, tanto quanto è lo stato di salute. Come pensare di andare a curare una malattia gravissima con della semplicità chiperina? Non può funzionare. All'interno di quest'ultima legislatura io mi sono preoccupato molto di ambiente, sono primo firmatario di una legge sulle comunità energetiche, una legge che naturalmente non ha trovato spazio nelle corde di questo centro-destra, tanto che in questo periodo mi sorprendo di quelli che sono i numeri, i dati che vengono snocciolati da chi ha governato la regione Abruzzo per 5 anni. Quando è stata presentata la mia legge io stesso ho trovato 40 mila Euro per darne seguito e farla iniziare. Era un periodo difficile dove le bollette, il caro bollette, il caro energia soffocava quelle che erano le famiglie, tanto da non permettergli neanche di poter mangiare o di scegliere se pagare una bolletta o se portare un piatto di pasta in tavola. Questa cosa naturalmente ha aperto dentro di noi la voglia di trovare delle soluzioni. Ho portato un progetto di legge sul reddito energetico che non è stato né discusso e approvato e rimango veramente allucinato sul discorso di qualcuno che oggi in questa maggioranza parla di 95 milioni di Euro per le comunità energetiche, mentre a tutt'oggi in questa attuale legislatura si sono visti pochissimi spicci e nessun interesse e nessun impegno. Poi se nella propaganda, nel futuro di questa immensa propaganda, qualcuno troverà 95 milioni di Euro per le comunità energetiche, io sarò il primo a sostenere quest'atto di indirizzo. A me non piace, non è piaciuto assolutamente come è stata gestita questa regione negli ultimi anni. Non c'è soltanto il tema dell'ambiente che ci ha visto purtroppo anche crescere per quelli che sono naturalmente i danni censiti nel confronto dei nostri mari, quindi tutte quelle che sono le situazioni attuali descritte, numeri che sono anche abbastanza noti, ma anche la sanità che vede 34 mila persone che si allontanano da questa regione. Voi immaginate come se tutti i lancianesi decidono di andarsi a curare in Lombardia, in Veneto, in Toscana. Questo porta a un saldo della mobilità passiva di 108 milioni. Questo significa che noi paghiamo stipendi a medici, operatori, sanitari di altre regioni per curare gli abruzzesi. Ecco, qui bisogna capire poi effettivamente che cosa si vuole fare, perché ad oggi il 45% delle persone che chiedono una visita specialistica sono costrette a rivolgersi a un privato. A tutt'oggi una persona su tre rinuncia a curarsi. Chi prenderà in mano le redini di questa regione deve naturalmente mettere, tracciare un percorso chiaro, netto, sulle scelte tra pubblico e privato. I cittadini abruzzesi contribuiscono con il loro lavoro ad avere dei servizi e i cittadini abruzzesi hanno diritto a dei servizi. L'impegno preso dal professor D'Amico, il progetto sposato dal professor D'Amico, ragionerà nei prossimi mesi, così come ha fatto in queste settimane, in soluzioni alternative, ovvero delle identità specifiche che è a sostegno di quelli che sono gli operatori, ma soprattutto a sostegno dei cittadini, dando delle risposte adeguate e utilizzando professionalità e competenze di persone del nostro territorio che non hanno nulla di meno rispetto naturalmente a chi lavora in altre regioni. E rispetto alle aree interne? Rispetto alle aree interne, considerate che l'Abruzzo oggi ha 346 mila case disabitate. Le aree interne sono la storia di questa regione. Le aree interne raccontano effettivamente la regione Abruzzo. Bisognerebbe iniziare a mettere in campo quei servizi tali da poter permettere ai giovani di rimanere all'interno dei luoghi dove sono nati per poter lavorare. Lo smart working durante il periodo della pandemia ci ha fatto capire che è possibile. È possibile anche lavorare da casa, dando la propria professionalità a disposizione di servizi, imprese e facendo ricrescere, investendo in questo campo, facendo ricrescere effettivamente quelle aree che ormai sono abbandonate e che non ci possiamo permettere di abbandonare. Lì vanno investiti soldi su infrastrutture, bisogna investire sulla transizione digitale, bisogna investire sui ragazzi perché questi ragazzi hanno bisogno di tutto il supporto di un legislatore per mantenere viva questa regione, per mantenere viva l'identità di questa regione. Grazie, grazie mille al consigliere Francesco Taglieri e grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.